Il bravissimo Lorenzo Dalla Porta va a vincere il Gran Premio del Giappone della Moto3, dimostra di avere classe talento da vendere. Un successo che va ai doppio con i rivali nella corsa al titolo Aaron Canet e Tony Arbolino a 0 punti, il ragazzo di 22 anni d'età di Prado. Pensate che non vinceva una corsa dallo scorso luglio in Germania, grazie però a diversi piazzamenti di gare condotte con grande dirigenza Dalla Porta si va a laureare in qualità di campione a Philippe Aranda nella settimana prossima. Dopo il secondo centro della stagione il vantaggio nei confronti di Canet sale a 47 punti complessivi. Riesce davvero a fare grandi, grandi, grandissime cose e mi voglio complimentare con lui, con il grande Lorenzo Dalla Porta. Bis invece per quanto riguarda Luca Marini, infatti vi ricordo che Marini ottiene con grande autorevolezza la seconda vittoria di fila nella Moto2 e il mondiale dunque resta di fatto aperto. Grazie, complimenti a Lorenzo Dalla Porta, complimenti a ovviamente anche Marini, Luca Marini. Un saluto a voi, iscrivetevi al prossimo video di Ariando, non a Radio Ariando.